Giuseppe Conte ad Aversa per le amministrative, per Mauro Baldascino, una soddisfazione anche per lei che è il leader provinciale del partito. Sì, una grande soddisfazione, soprattutto una grande soddisfazione per un lavoro di gruppo che abbiamo fatto con il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Aversa. Questi eventi naturalmente costano fatica, però grande soddisfazione sicuramente per un sigillo che il Presidente ha voluto concedere al nostro lavoro che è stato comunque molto certosino in queste settimane. Su Aversa il Movimento 5 Stelle a livello provinciale è stato determinante. A un certo punto c'era Filippo Panza dei 5 Stelle come candidato sindaco, poi avete deciso assieme di ritirare quella candidatura per Mauro Baldascino per salvaguardare la coalizione. Perché questa scelta? Come già ho avuto modo di spiegare anche nel documento che ho reso pubblico in quei giorni, la candidatura di Filippo Panza è stata più provocatoria che altro, nel senso che è stata fatta in un momento di stallo drammatico del tavolo di coalizione e abbiamo deciso di fare appunto questa mossa proprio per smuovere un attimo gli animi e andare a chiudere su una figura, quella di Mauro Baldascino che fin dall'inizio noi abbiamo appoggiata. Siamo stati contenti che nessuno sia andato a leggere il regolamento del Movimento 5 Stelle perché bastava leggere quello per capire che Filippo Panza non sarebbe mai potuto essere stato il candidato sindaco. Quindi smentiamo pure il tabù dei 5 Stelle che non fanno politica, la fanno anche meglio degli altri forse. A livello provinciale qual è lo stato di salute del Movimento 5 Stelle? A livello provinciale stiamo facendo un grande lavoro con i gruppi territoriali che stanno sorgendo, altri saranno approvati nelle prossime settimane. c'è un lavoro che come comunità tutti insieme stiamo portando avanti guardando sicuramente alle scadenze elettorali prossime di giugno ma già guardando alle regionali e ai prossimi appuntamenti che aspettano il Movimento 5 Stelle.